Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Scelli da Rocchi, in questo video vedremo qual è il messaggio che gli spiriti vi vogliono comunicare. Qui abbiamo tre diversi gruppi di carte, abbiamo il gruppo numero 1, il gruppo numero 2 ed il gruppo numero 3. Seguite la vostra intuizione nella scelta del gruppo e se volete ricevere una guida da una persona che è passata oltre per vedere che cos'è che vi vuole dire, oppure verso quale messaggio vi vuole guidare, mettete in pausa il video e fate questa richiesta. Vedete poi la vostra intuizione dove vi guida. Se vi sentite di scegliere più di un mazzo lo potete fare, ci vorrebbe essere un messaggio ulteriore per voi. Se la lettura risuona con voi vuol dire che è per voi, il video è valido dal momento in cui lo si vede. Detto questo vi voglio ricordare che non faccio consulti privati, iniziamo con il gruppo numero 1. Allora gruppo numero 1, i messaggi per voi sono quelli di qualcosa di positivo sta per verificarsi. La tua sensazione, ho sentito un classo, quindi potresti ricevere dei segni su quello. La tua sensazione riguardo quella situazione è corretta. Veglio spesso su di te durante il sonno. Quel rumore l'ho fatto io. Ti assisto io in quella situazione, non ti preoccupare. Ci sarà un'unione con una persona. Ti parlerò mediante i simboli e mi riempi di orgoglio e di soddisfazioni. Vi viene comunicato che qualcosa di positivo si sta per verificare in una particolare circostanza, poi andremo a chiarire. Le vostre sensazioni riguardo una specifica situazione sono corrette. Ossia voi vi sentite qualcosa, non ne avete pienamente la certezza, però vi viene detto che quella sensazione è giusta, nel senso che non vi state sbagliando. C'è lo spirito di qualcuno che veglia spesso su di voi durante il sonno. E se sentite dei rumori durante la notte, con estrema probabilità si tratta dello stesso spirito. Siete assistiti in una situazione che potrebbe sembrarvi difficile, oppure un po' complicata, però non siete soli. Vi viene inoltre indicato che ci sarà un'unione con una persona. Questa unione potrebbe essere intesa come una riconciliazione, un'interazione importante che sia con qualcuno. Vedremo comunque di che cosa si tratta per andare di più nello specifico. Questo spirito cercherà di parlare con voi soprattutto attraverso i simboli. Potreste vedere questi simboli dal vivo oppure anche attraverso i sogni, quindi potrebbe essere opportuno andarle ad interpretare. E quando vi sentite guidati nell'interpretazione è perché c'è qualcosa che voi dovete capire di quella circostanza. E poi riempite di orgoglio e di soddisfazioni una persona che è passata oltre. Allora, andiamo un attimo a chiarire e vediamo perché c'è la carta che dice qualcosa di positivo sta per verificarsi per il gruppo numero uno. Perché c'è la carta che dice qualcosa di positivo sta per verificarsi per il gruppo numero uno. C'è la carta del sei di denari sul fondo del mazzo. Poi abbiamo il fante di coppe con i cinque di bastoni. Quindi quello che emerge è che se siete stati in una situazione di tensione con qualcuno o ci sono state delle complicazioni abbastanza pesanti nell'ambito di un contesto, io vedo che c'è una risoluzione di quei problemi. E quindi questo poi porta ad un senso di equilibrio. Se ci sono stati dei conflitti in particolare vedo che qualcuno vuole chiedere scusa. Quindi quella situazione viene risanata. Se avete sperimentato dei problemi di natura economica potrebbe essere inoltre in arrivo un'offerta. Perché vedo il concetto di qualcosa che vi viene offerto, vedo il concetto di pagamenti eventuali che riportano una situazione ad essere maggiormente in equilibrio. Vediamo perché c'è la carta che dice la tua sensazione riguardo quella situazione è corretta. C'è il set di bastoni e c'è la giustizia in una posizione orizzontale. Vi viene detto che voi avete ragione circa una situazione che vi sembra essere ingiusta. Nel senso che le parti sono sbilanciate. Percepite che c'è un'ingiustizia. Non so quale situazione sia ma è qualcosa in cui bisogna farsi valere. Bisogna in alcuni casi combattere o comunque avere delle difese sane. Quindi vi viene detto che voi avete ragione su quello. È necessario fare giustizia. Quindi significa che ci sono certe azioni che hanno delle conseguenze e devono essere prese in considerazione. Non si possono praticamente ignorare. Quindi se è opportuno forse punire qualcuno o farsi rispettare bisogna farlo. Inoltre ci potrebbe essere anche qualcosa che ha a che fare con documenti ufficiali, contratti eccetera. C'è bisogno di andare ad analizzarli bene e dire di no su alcuni punti laddove è necessario. Se vi sembra che vi sia un'ingiustizia. Adesso vediamo perché c'è la carta che dice venire spesso su di te durante il sonno. C'è la carta del 5 di spade. E c'è la carta del 10 di bastoni. Se voi sentite la presenza di qualcuno durante la notte potreste tendere a pensare in termini negativi. Quindi c'è una sorta di inganno. Le cose non sono esattamente come sembrano. Alcuni di voi potrebbero inoltre avere dei problemi durante il sonno. Potrebbero fare molta fatica per addormentarsi oppure avere un sonno che è irregolare. Devo anche dire un'altra cosa che ci potrebbe essere una presenza che vi protegge durante la notte. Perché nella carta del 5 di spade vedo questa persona che guarda quegli spiriti che si allontanano. Però lo percepisco come una forma di protezione nei vostri confronti. Vediamo perché c'è la carta che dice quel rumore l'ho fatto io. C'è la ruota. E poi abbiamo il folle. Sono dei rumori che potrebbero essere legati ad oggetti circolari. C'è chi potrebbe sentire oggetti che cadono. Essendoci la ruota mi viene anche da pensare che si tratta di rumori che tendono a cambiare. Non sono sempre gli stessi. È come se ci fosse sempre qualcosa di diverso. Vediamo perché c'è la carta che dice ti assisto io in quella situazione. Non ti preoccupare. Perché c'è la carta che dice ti assisto io in quella situazione. Non ti preoccupare. C'è la carta del 6 di coppe con il giudizio. Questo potrebbe indicare due cose. O che le carte non specificano quale tipo di situazione è. Ma si tratta di qualcosa in cui voi sarete assistiti. Perché è come se questo spirito fosse vicino a voi in quel momento. Nella carta del giudizio infatti si vede il concetto della resuscitazione. E poi abbiamo il 6 di coppe che mi fa venire in mente appunto questo senso di unione. Di vicinanza che c'è tra voi e questo spirito. Per altre persone invece questo spirito vi vuole dire che vi assiste in una circostanza dove ci sono questioni del passato che riemergono. Si può trattare di memorie, si può trattare di qualcosa insomma che risale in superficie. Oppure si tratta di persone che riemergono. E quindi c'è una forma di assistenza che vi viene data. Vediamo perché c'è la carta che dice ci sarà un'unione con una persona. Perché ci sarà un'unione con una persona per il gruppo numero uno. C'è la carta del 3 di denari. Poi abbiamo la carta della stella con la carta del 9 di denari. Quella che emerge è un'energia di cooperazione che voi avrete con qualcuno. Ed è una cooperazione che vi è di beneficio. Vi porta un certo senso di benessere e delle energie che sono molto positive. Perché è come se qualcosa fosse stato risolto. È come se qualcosa adesso funzionasse bene. Si può trattare del contesto lavorativo dove c'è questo ritrovato senso di cooperazione. Oppure letteralmente si ha a che fare con nuove persone. Per alcuni potrebbe avere a che fare anche con altri contesti dove generalmente vi trovavate a fare le cose da soli. Però venite assistiti, venite aiutati. C'è questo senso di cooperazione che emerge. Che si tratti di amicizia, che si tratti di amore. Insomma vedo che voi avete un sostegno di qualche tipo. Vediamo perché c'è la carta che dice ti parlerò mediante i simboli. C'è la carta del cavaliere di coppe. E c'è la carta dell'asso di coppe. Quindi c'è molta presenza dell'acqua. Potreste vedere l'acqua spesso nei vostri sogni, sotto diverse forme. Vedo anche la presenza del cavallo. Quindi si può trattare forse di spiriti animali. Però insomma riceverete dei simboli che vi indicheranno qualcosa. E a mio avviso si tratta di qualcosa che concerne appunto il settore emotivo. Tra l'altro potrebbe essere in arrivo un'offerta per voi. Che vi coinvolge da quel punto di vista. Quindi si può trattare di un'offerta a livello sentimentale. Oppure se tratta di qualcosa che vi coinvolge dal punto di vista delle emozioni. Ed è in arrivo verso di voi. Riceverete dei simboli che vi anticiperanno questo. Vediamo perché c'è la carta che dice mi riempi di orgoglio e di soddisfazioni. Il rigruppo numero uno. Perché c'è la carta che dice mi riempi di orgoglio. C'è la carta del tre di bastoni. E c'è la carta della regina di coppe segno d'acqua che accrovesce scorpione. A mio avviso questo spirito vi vuole dire che voi avete fatto dei progressi in una circostanza. Quindi siete andati avanti. Avete mosso dei passi che sono positivi rispetto a prima. Alcuni di voi potrebbero pensare di essere rimasti fermi allo stesso punto. Ma invece non è così. Insomma vedo che c'è un progresso. E vedo anche che qualcosa è in arrivo verso di voi. Si è data semplicemente di attendere. Ma siete allineati. Si può trattare di qualcosa che ha a che fare con il settore emotivo. C'è la presenza di un segno d'acqua. Che per alcuni potrebbe essere rilevante. Appunto cancro, pesci oppure scorpione. Adesso vediamo di avere un oracolo per voi. Quale ulteriore messaggio possiamo avere per il gruppo numero uno? Quale ulteriore messaggio possiamo avere per il gruppo numero uno? Al fondo del mazzo c'è la carta che dice Comunità, gli altri ti sostengono. Quindi voi ricevete il supporto da parte di alcune persone. Si può anche trattare di spiriti. Abbiamo la carta che dice Potere, entra nel tuo potere e in passioni. C'è un motivo e se ti appassiona segui le tue passioni. Quindi siete invitati ad entrare maggiormente nell'energia Di chi si sente in potere. Di chi si sente in controllo. Non dovete avere paura o preoccupazioni. Dovete entrare in questa energia. E siete invitati inoltre a seguire le vostre passioni. Perché se c'è qualcosa che vi appassiona c'è un motivo. Vuol dire che è qualcosa che vi serve. Vuol dire che è qualcosa che è allineato al vostro percorso. E quindi siete invitati a perseguirlo. Vi ringrazio per aver visto il gruppo numero 1. Adesso passa gruppo numero 2. Allora gruppo numero 2. I messaggi per voi sono quelli di Ti avviserò di un imprevisto. Osserva i segni. Ti farò capire delle cose attraverso una canzone. Ti anticiperò il miglioramento di una situazione. Osserva i segni. Ciò che ti fa male ora verrà visto come una benedizione dopo. Devi avere difese sane. Ce la farai a superare quelle difficoltà. Voglio metterti in guardia riguardo un'energia negativa e spirito di un familiare. Quindi per alcuni si tratta dello spirito di un familiare che è passato oltre, che vi vuole dire queste cose. O c'è uno spirito di un familiare che è rilevante per voi perché vi avvicino. Sarete avvisati di qualcosa che avverrà in maniera inaspettata. Vedremo poi di che cosa si tratta perché andrò a chiarire per avere più dettagli. Quindi cercheremo di capire se è possibile avere più informazioni su questo. Però riceverete dei segni. Oltre ai segni ci sono anche le canzoni. Quindi ci potrebbe essere qualche canzone che sentirete che vi anticiperà che qualcosa insomma sta per accadere. Si può trattare anche di canzoni che sentite nella vostra testa all'improvviso perché c'è un messaggio che è contenuto in quelle canzoni. Una situazione migliorerà. Riceverete dei segni anche su questo. Quindi si potrebbe trattare della stessa situazione che si verifica in maniera imprevista ci sarà un miglioramento successivamente. O si tratta di due situazioni che sono diverse. Se voi state sperimentando delle difficoltà in un contesto e vi sembra che qualcosa sia negativo e in realtà vi viene detto che si tratta di una benedizione. È qualcosa che va a vostro favore ma lo capirete soltanto dopo. Siete invitati ad avere delle difese sane nei confronti di alcune persone o situazioni e di essere forti perché ce la farete a superare delle difficoltà che state sperimentando. L'energia negativa da cui siete messi in guardia potrebbe essere intesa come pessimismo in alcuni casi oppure un'energia che percepite essere negativa intorno a voi. Insomma c'è bisogno di purificare le proprie energie, c'è bisogno di cambiare qualcosa. Poi andremo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta. Intanto vediamo perché c'è la carta che dice ti avviserò di un imprevisto, osserva i segni. Quindi perché al gruppo numero due viene detto, ok, la giustizia e l'appeso. Quindi non mi viene detto che cos'è, a meno che non si tratti di qualcosa che ha a che fare con il settore legale, documenti o contratti, però penso che questo abbia a che fare soprattutto con il fatto che ha a che fare con il vostro karma, è una situazione che serve a riportare un equilibrio in una circostanza. E il fatto che ci sia l'appeso mi dice che voi dovete vedere le cose da prospettive diverse per capire i tuoi segni. Quindi si tratta tipo di simboli, si tratta di qualcosa che non è diretto ma lo potete capire guardando le cose da angoli diversi, quindi dovete fare una sorta di analisi e avere la capacità di fare dei collegamenti, perché si tratta di qualcosa che non è molto diretto. Alcuni di voi potrebbero essere stati in un'energia stagnante, c'è bisogno di smuovere quelle energie, quindi forse l'imprevisto potrebbe essere legato a quella situazione lì. Inoltre si può trattare di un evento che vi porta ad acquisire maggiore illuminazione, soprattutto dal punto di vista spirituale. Tra l'altro vedo la presenza di raggi con il sole, quindi a mio avviso ha a che fare anche con l'illuminazione spirituale. Vediamo perché c'è la carta che dice ti farò capire delle cose attraverso una canzone. Perché c'è la carta che dice ti farò capire delle cose attraverso una canzone. Fondo del mazzo infante di coppe è abbiamo la ruota. Questa ruota mi ricorda un disco per alcuni. Ci potrebbe essere il video di una canzone dove c'è qualcosa che ha una forma circolare. La canzone stessa potrebbe parlare del cambiamento o del perdono. Potrebbe essere una canzone che viene automaticamente inserita nella playlist che è stata ascoltando. Perché ho la percezione che qualcosa venga in automatico. Un'altra cosa che emerge è che il messaggio che è contenuto nella canzone mi vuole anticipare di un cambiamento che si sta per verificare. È un messaggio di natura emotiva. Potrebbe anche indicare che c'è qualcuno che vuole chiedere scusa oppure che si vuole fare avanti. Vediamo perché c'è la carta che dice ti anticiperò il miglioramento di una situazione. Osserva i segni. Perché c'è la carta che dice ti anticiperò il miglioramento. Abbiamo i 6 di coppe e abbiamo i 4 di bastoni. Quindi sì c'è una situazione che migliora perché c'è questa energia di celebrazione che segue. E anche un'energia di maggiore stabilità. Quindi se avete sperimentato delle instabilità vedo che verranno superate e si torna ad avere questa energia che è armoniosa. Per alcuni vedo anche le appacificazioni con delle persone che per voi sono importanti. E quindi si crea quel senso di stabilità. Non posso escludere anche unione con persone del passato. Perché vedo questo concetto. Però penso che questo abbia a che fare soprattutto con la vostra stabilità. E con un senso forse di pace anche verso il vostro passato. Vediamo perché c'è la carta che dice ciò che ti fa male ora verrà visto come una benedizione dopo. È incredibile questo 10 di spade è prevalentemente in posizione contraria. E poi abbiamo l'8 di spade. Quindi vi potrebbe sembrare che nell'ambito di una situazione voi siete bloccati. Non c'è un'uscita o vi sembra di essere fermi. In realtà non è così. Quel 10 di spade è in posizione prevalentemente contraria. Perché c'è qualcosa che vi potrebbe avere ferito tanto. Ma vedo che voi riuscirete a superarlo. Alcuni di voi potrebbero vedere delle rotture con delle persone o dei tradimenti come qualcosa di negativo. In realtà è una benedizione perché è qualcosa che vi porta ad uscire fuori da una trappola o da qualcosa che per voi era praticamente nocivo. Adesso vediamo perché c'è la carta che dice devi avere difese sane per il gruppo numero 2. C'è la carta del re di Bassoni, segno di fuoco, re del leone sagittario. Abbiamo anche il re di Coppe, segno d'acqua, cancrovisci, scorpione. E abbiamo il 2 di Denari. Allora alcuni di voi letteralmente devono avere difese sane nei confronti di persone che hanno questi segni zodiacali. A prescindere dal tipo di rapporto. Altrimenti questo sta ad indicare che se notate che c'è una situazione dove le cose sono ambigue o dove vi sentite incerti perché la vostra intuizione vi fa mettere in dubbio le cose. Scegliete di avere delle difese sane. Dovete essere un'energia che è coraggiosa, che è forte e che ha anche un buon equilibrio a livello emotivo. E che è capace insomma di gestire le proprie emozioni soprattutto quando ci sono delle agitazioni. Adesso vediamo perché c'è la carta che dice ce la farai a superare quelle difficoltà. Perché c'è la carta che dice ce la farai a superare quelle difficoltà. C'è la carta del 3 di spade con la carta del giudizio e la carta del fanti di denari. Quindi vedo che potrei sapere sperimentato situazioni che sono state difficili, sono state dolorose. Però vedo che siete assistiti in questo. Vedete come in questa carta c'è questa energia di aiuto e di supporto che viene offerto. Anche se sentite di essere soli in realtà non è così. E vedo che si tratta di circostanze che vi fanno crescere, vi fanno imparare molte cose. C'è una sorta di apprendimento che si verifica. Vedo che riuscire da superare delle difficoltà che sono connesse a quelle situazioni. Un'altra cosa che emerge, che voglio dire, è che ci potrebbe essere qualcuno dal passato che riemerge. Con quella persona c'è stata una forma di separazione prima. E ci sono delle difficoltà che verranno superate, che sono connesse insomma a quella vicenda. Adesso vediamo perché c'è la carta che dice voglio metterti in guardia riguardo un'energia negativa. C'è la carta del 6 di denari e poi abbiamo il 4 di denari e la temperanza entrambi in una posizione orizzontale. Quindi si tratta di un'energia negativa che spesse volte vi destabilizza e vi fa essere fuori equilibrio. Alcuni di voi non vogliono lasciare andare qualcosa oppure qualcuno. Spesse volte lo vogliono fare però poi vedo che potrebbero ricascare in quello schema. C'è un senso di attaccamento. Potrebbe essere anche un attaccamento verso questioni del passato che è difficile lasciare andare. Invece c'è bisogno di arrivare a questa trasformazione e di arrivare anche ad un maggiore equilibrio. C'è bisogno di integrare quello che si è preso e di non avere un'energia di resistenza oppure di attaccamento. Un'altra cosa che emerge è che l'energia negativa per alcuni di voi potrebbe essere quella che vi impedisce di aprirvi completamente agli altri. Avete delle resistenze ad essere disponibili, ad essere aperti perché ci sono delle ferite che sono ancora presenti e che è necessario risanare. Per alcuni questa energia potrebbe essere connessa anche a questioni economiche. Forse è necessario andare a risanare delle credenze che si hanno per quanto riguarda quel settore. Adesso vediamo perché c'è spirito di un familiare per il gruppo numero due. C'è la carta della morte e la carta del cavaliere di coppe. Per alcuni potrebbe essere uno scorpione oppure un altro segno d'acqua, cancro e pesci, però non necessariamente. C'è qualcosa di rilevante che potrebbe essere connesso alla luna piena per alcuni. Questo mi fa anche pensare a possibili sogni nei quali questa persona potrebbe cercare di comunicare con voi. Si tratta di messaggi che sono emotivi. Questa è una persona che vi sta anche aiutando per quanto riguarda delle situazioni che attengono al settore emotivo e che per voi potrebbero essere stati difficili. Adesso vediamo di avere un oracolo per il gruppo numero due. Quale oracolo possiamo avere per il gruppo numero due? Un oracolo per il gruppo numero due? C'è la carta di limiti. Sentiamo i tuoi pensieri, sono limitanti, superali. L'abbiamo visto prima con l'otto di spade. Quindi c'è bisogno di superare dei pensieri che sono limitanti. E poi c'è creazione. Dai nascita a ciò che ti stiamo comunicando. Quindi ci potrebbero essere delle idee o delle ispirazioni che vi vengono passate, soltanto che pensieri limitanti potrebbero bloccarle oppure insicurezze. Bisogna invece dare nascita a ciò che vi viene suggerito, quindi a quelle ispirazioni che voi state ricevendo. Vi ringrazio per avere scelto il gruppo numero due. Adesso passa al gruppo numero tre. Allora gruppo numero tre, il messaggio per voi è quello di Sto cercando di catturare la tua attenzione. Spirito di un bambino. Ti manderò un messaggio attraverso gli animali. Voglio metterti in guardia al riguardo di una persona. Spirito di qualcuno che non hai mai conosciuto in questa vita. Provo gioia per i progressi che hai fatto. Nei momenti difficili ti sono vicino e ti aiuto nel processarli. Sposta la tua attenzione, i tuoi pensieri sono fuori equilibrio. Allora emerge che c'è lo spirito di qualcuno che sta cercando di catturare la vostra attenzione. Per alcune persone si può trattare dello spirito di un bambino e in alcuni casi è qualcuno che voi non avete mai conosciuto in questa vita e potrebbe essere presente nel luogo in cui voi vi trovate. Altrimenti queste sono due entità che sono diverse. Cioè c'è lo spirito di un bambino che voi avete conosciuto e poi c'è qualcun altro che invece non avete conosciuto e che è presente ad esempio nel luogo in cui voi vi trovate. Gli animali saranno importanti perché vi indicheranno un messaggio e ogni spirito animale ha un significato. Quindi quando siete guidati nell'andata di cercare il significato di un animale è perché c'è un messaggio che occorre sapere. Soprattutto se tendete a vedere quell'animale veramente spesso. che sia online, che sia dal vivo, insomma c'è un motivo per cui succede. In alcuni casi occorre osservare il comportamento degli animali. Quindi se la vostra attenzione si pone su quello che gli animali stanno facendo ed è molto particolare, è perché è legato a qualcosa che sembra descrivere una situazione in cui vi trovate oppure vi troverete. Siete messi in guardia per quanto riguarda una particolare persona poi vedremo di avere maggiori informazioni su quello. C'è lo spirito di qualcuno che prova gioia per i progressi che avete fatto. Nei momenti difficili c'è qualcuno che vi avvicino e vi aiuta nel processarli. non siete soli, siete invitati a trovare un equilibrio in una situazione dove tendete a preoccuparvi troppo oppure a pensare in maniera ossessiva a qualcosa. Questo mi ricorda il numero 6 ripetuto che voi potreste vedere molto spesso. Quindi significa che dovete cercare di non pensare a qualcosa che vi fa sentire un'energia instabile ma di spostare la vostra attenzione verso qualcosa che vi fa sentire un'energia più stabile. Adesso vediamo di chiarire perché c'è la carta che dice sto cercando di catturare la tua attenzione per quanto riguarda il gruppo numero 3 perché c'è il messaggio che dice sto cercando di catturare la tua attenzione perché c'è il messaggio che dice ok c'è la regina dei bastoni, segno di fuoco, ariete, leone e sagittario e abbiamo il fante di coppe al contrario. Abbiamo tutti i segni di fuoco, ariete, leone e sagittario abbiamo anche tutti i segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Con questo fante di coppe al contrario vedo che voi potreste spesso non recepire quello che questo spirito vi vuole comunicare. Ecco perché sta cercando di catturare la vostra attenzione. Un'altra cosa che emerge è che questo spirito sta cercando di catturare la vostra attenzione per quanto riguarda una situazione dove c'è un'assenza di comunicazione tra voi e qualcuno o ci sono delle circostanze dove voi avete difficoltà a perdonare delle persone. Quindi questo spirito potrebbe mandarvi forse dei simboli oppure dei segni che concernono quella situazione. Si tratta semplicemente di prestare maggiore attenzione. Vediamo perché c'è lo spirito di un bambino. Perché c'è il spirito di un bambino. Questo è prevalentemente al contrario ed è l'otto di denari al contrario. In fondo del mazzo c'è la carta del 3 di coppe. Associato all'energia di questo bambino c'è un'energia che è molto giocosa. È una personalità che si vuole divertire. È qualcuno che in vita aveva tante distrazioni. Iniziamo una cosa e poi la interrompeva. Oppure tendeva a distrarre le altre persone intorno a sé. E anche come spirito potrebbe tendere a distrarvi spesso da quello che voi state facendo. E magari non me ne rendete neanche conto. E emerge il concetto di qualcosa che viene interrotto. Potrebbe essere lo spirito di qualcuno che voi non avete mai conosciuto e che non ha ricevuto abbastanza attenzione quando era piccolo. Perché vedo il concetto di un'interruzione di qualcuno che non ci mette lo sforzo o non ci mette l'impegno. Quindi questo potrebbe essere per alcuni rilevante. Vediamo perché c'è la carta che dice ti manderò un messaggio attraverso gli animali. C'è la carta del papa. Poi c'è la carta del 9 di spade e del 5 di denari. Gli animali potrebbero indicarvi qualcosa che ha a che fare con questioni economiche e lavorative e questo è rivolto soprattutto a quelli di voi che hanno delle preoccupazioni in quel settore. Ci potrebbero essere degli animali che hanno un specifico significato che vi anticipano qualcosa che sta per accadere oppure il loro stesso comportamento che vi indicherà qualcosa. Per altre persone questo è legato di una situazione di freddezza che voi state sperimentando con qualcuno. Si può trattare di un rapporto che per voi è significativo soprattutto se è un rapporto che è ufficiale o c'è un rapporto formale di mezzo con una persona ma si tratta di qualcosa che vi stressa e vedo che riceverete dei messaggi attraverso gli animali circa quella circostanza. Potrebbero essere anche dei sogni quindi animali che voi vedete in sogno. Vediamo perché c'è la carta che dice voglio metterti in guardia riguardo a una persona. Per il gruppo numero 3 perché c'è la carta che dice voglio metterti in guardia da capo il papa e poi abbiamo il diavolo con il 4 di bastoni in una posizione prevalentemente orizzontale. C'è una persona che risulta essere tossica potrebbe far parte del contesto lavorativo per alcuni è una persona che è sposata soltanto che emerge il concetto di un'instabilità con questo 4 di bastoni. Alcuni di voi potrebbero sentirsi legati a qualcuno di tossico perché c'è una lezione spirituale dietro però vi viene detto di essere in guardia nei confronti di quella persona a livello intuitivo potete capire di chi si tratta. Questo diavolo in una posizione orizzontale inoltre mi suggerisce che voi avete la percezione che si tratta di qualcuno di tossico e ne siete fuori ve ne volete praticamente liberare però ci potrebbe essere ancora qualcosa che vi lega a quella persona perché c'è una lezione spirituale dietro. Questo potrebbe anche avere a che fare con il contesto lavorativo se siete legati a qualcuno che sapete essere tossico e non ve ne potete liberare del tutto dovete cercare di avere delle difese che sono alte nei confronti di quella persona per avere un maggiore senso di stabilità. Vediamo perché c'è la carta che dice spirito di qualcuno che non è mai conosciuto in questa vita per il gruppo numero 3 perché c'è la carta che dice ok, tutto in posizione orizzontale abbiamo il sole cioè la morte il 2 di spade il 7 di spade e il 9 di colpe si può trattare di qualcuno che indossava la divisa per alcuni di voi quindi ovviamente questo non ha a che fare con il bambino in questo caso questo spirito si potrebbe presentare soprattutto quando si fa buio perché vedo nella carta del sole che ci sono questi spiriti che si nascondono dal sole quindi qualcosa mi dice che quando è buio quando sono ore notturne è più probabile che questa presenza sia vicina non è una presenza che è costante perché vedo che ha questa energia che è sfuggente voi potreste avvertire la presenza di questo spirito per mettere le cose in discussione questa persona durante la vita potrebbe essere stata disonessa in alcuni casi potrebbe avere indossato la divisa però essersi comportata in una maniera che non era corretta alcuni di voi sperimentano oggetti che scompaiono in casa come se qualcuno li avesse presi o notate che qualcosa viene spostato qualcosa mi dice che si tratta di qualcuno che potrebbe essere presente soprattutto dove c'è un tavolo o dove ci sono delle sedie però ripeto è una presenza che è movimento non è sempre presente non voglio spaventare nessuno con questo ovviamente prendete soltanto se risuona nel vostro caso specifico però c'è un motivo per cui appare ed è un po' strainsaputo a mio avviso voi non lo sapete potreste sentire ma avere delle incertezze a riguardo vediamo perché c'è la carta che dice provo gioia per i progressi che hai fatto perché c'è la carta che dice provo gioia per i progressi che hai fatto c'è la carta dell'asso di spade e la carta del 5 di bastoni sono progressi che hanno a che fare soprattutto con il superamento di situazioni che sono state difficili e molto intrigate e voi avete avuto successo nel superarle alcuni di voi potrebbero inoltre avrebbero avuto spesso problemi nell'esprimere la loro opinione nell'essere onesti nel dare un taglio a certe situazioni e invece poi ci siete riusciti e questo spirito prova soddisfazione soprattutto per questi progressi perché siete riusciti a superare delle situazioni che sono state difficili e ad essere delle persone più forti rispetto a prima vediamo perché c'è la carta che dice in dei momenti difficili sono vicino e ti aiuto nel processarli c'è la carta della ruota poi c'è la carta del 3 di bastoni e del giudizio questo spirito vi potrebbe essere vicino soprattutto quando si tratta di momenti che sono importanti e che comportano cambiamenti oppure grosse decisioni inoltre alcuni di voi potrebbero sperimentare nei momenti difficili perché aspettano che una persona ritorni o che qualcosa praticamente cambi e che possa riemergere dal passato e vedo che voi non siete soli in quella situazione se sperimentate delle emozioni difficili che sono connesse a quei particolari eventi adesso vediamo perché c'è la carta che dice sposta la tua attenzione i tuoi pensieri sono fuori equilibrio c'è la carta della ruota da capo con la forza in posizione orizzontale quindi quando voi pensate a qualcosa che vi stabilizza e che vi fa sentire l'energia che è debole non l'energia di chi è forte quindi vi sentite indeboliti oppure vi sentite vittime delle circostanze oppure di qualcuno c'è bisogno di cambiare quei pensieri adesso vediamo di avere un oracolo per il gruppo numero 3 c'è la carta di vite passate vedere una scena di una vita passata carte chiedi alle carte e protezione la tua energia è protetta quindi ho la percezione che questo spirito appunto vi voglia proteggere potreste vedere spesso le piume come simbolo e come conferma di questo c'è qualcosa che ha a che fare con le vite passate o con il vostro passato in generale potreste tendere a rivedere delle scene nella vostra mente e se si tratta di vite passate si tratta di scene che non sapete spiegarvi però le vedete e le carte vi possono essere di aiuto perché vi possono spiegare meglio una situazione oppure c'è qualcosa che è emerso nelle carte che è legato a vite passate forse alcuni di voi hanno bisogno di fare appello alle carte oppure ad altri strumenti di divinazione per scoprire qualcosa che è connesso alle vite passate oppure al passato per avere maggiori informazioni su eventi che si verificano adesso soprattutto se c'è ancora un condizionamento che è dettato da vite passate oppure dal vostro passato in generale le carte vi parleranno di qualcosa che sembra essere rilevante per un attimo ho sentito un'aria fredda quindi potrebbe essere che ci siano spiriti che si fanno sentire con presenze di aree fredde vicino a voi l'aria fredda mi ricorda anche la freddezza a livello di comunicazione quindi forse questo ha a che fare con questioni dove ci sono problemi a livello di comunicazione con qualcuno non lasciate che il passato vi condizioni se vi sentite bloccati in una vicenda con qualcuno che sapete essere tossico è opportuno andare avanti quello potrebbe essere un messaggio per voi vi ringrazio per aver visto questo video poi ci vediamo molto presto in un prossimo ciao a tutti ciao a tutti